Piu, 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 vai Mario, vai, piu, piu, grande, questa tv un po' da cambiare, si inizia a vedere male, piu, piu, oh porca miseria, ma chi è? Pronto? Bella faccia, devi registrare un nuovo video. Ma devo proprio, stavo giocando Super Mario Bros. Sì, devi registrare un nuovo video. Eh, che cavolo, va bene, va bene, un attimo e arrivo subito, ma guarda un po'. Eh, Mario, 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 ci vediamo un'altra volta. Questa tv è proprio da cambiare, eh? Oh, 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 ops, sì, diciamo che adesso è veramente da cambiare. Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui a Bella Faccia. Come state? Spero tutto bene. Siamo qui in un nuovo fantastico video e io ve lo chiedo subito, ve lo chiedo, ve lo chiedo. No, non avete lasciato ancora un mi piace, no, 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 non si fa così, avete capito? Bisogna lasciarlo subito, immediatamente, perché se lasciate un mi piace e vi iscrivete al canale, ovviamente, iscriversi e attivando la campanellina, perché so che alcuni di voi non l'hanno fatto. Questa cosa non va bene. Bella Faccia, vi ringrazierà e sarà molto contento. Ok, bando alle sanse. Oggi vedremo i mostri di Minecraft, i cattivi, i super cattivi, cosa sto dicendo, ma nella vita reale contro Minecraft, avete capito bene? Bene, quindi vedremo i super cattivi della vita reale su Minecraft. Quanto faranno paura? Mamma mia, iniziamo subito! Allora, il primo è... Oh, mamma mia, Squid Game, ragazzi! La guardia Squid Game! La guardia di Squid Game è cattivissima! Io non vorrei mai ritrovarmi davanti la guardia di Squid Game. E quindi vediamo la guardia di Squid Game su Minecraft. Oh, 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 calmo! Non puntarmi quell'affare addosso, hai capito? Non ho fatto niente. Va bene, giocherò a 1, 2, 3 stella, però prima magari fammi bere una Coca-Cola. Metti giù quell'arma, hai capito? Oh, che cavolo, ragazzi! Comunque sia, voi qua sotto i commenti scrivetemi quali preferite. Se quelli di Minecraft o nella vita reale? In questo caso io non lo so che cosa scegliere, visto che ho un fucile puntato addosso, scelgo quello di Minecraft. Ok, non mi fare del male. Ok, vediamo il prossimo. Chi sarà mai il prossimo? Oh, mio Dio. È Aggy Waggy. È Aggy Waggy, ragazzi! Ok, Aggy Waggy nella vita reale è veramente cattivo. Non ha nulla a che fare sicuramente con Aggy Waggy di... Oh, mio Dio, ma ha una faccia stupidissima! Ciao, Aggy! Sono qui, sono qui, ciao, Aggy! Ok, quindi Aggy Waggy di Minecraft contro Aggy Waggy nella vita reale. Allora, Aggy Waggy di Minecraft così è troppo simpatico. Dai, ammettiamolo. Tutti i video di Aggy Waggy sono ultra divertenti. E quindi mi sa, Aggy Waggy, che io devo votare per forza Aggy Waggy su Minecraft. Aggy Waggy, vero? È troppo cattivo, ti insegue, ti vuole mangiare. Invece tu sei buono, non è vero che sei buono, piccolino, eh? Ciao, sono qua sotto! Ok, fantastico. Vado via prima che si arrabbi. Vediamo il prossimo! Oh mio Dio, è Granny ragazzi, Granny, io ho un sacco paura di Granny. È una nonnina piccolina che ci dà sempre la caccia. Eh? Eh, non hai mangiato? Adesso ti do due tozze, hai capito? Ok, quindi Granny nella vita reale fa veramente paura. Ma Granny su Minecraft? Oh! Oh! Oh mio Dio! È cattivissima! Guardate che roba! Non mi guardare così, Granny! Granny, Granny, non guardarmi così, Granny! Ok, ha la sua mazza e non darmela in testa. Non ci sto capendo più una mazza! Ah, pessima. Ok, quindi Granny su Minecraft. È orribile ragazzi, cioè guardate è un mostro. Io non vorrei mai incontrarla di notte su Minecraft. Però devo dire, fa troppa paura la Granny che conosciamo tutti nella vita reale. Oh! Avete sentito? Cos'è stato? Comunque sia, non lo so che cosa votare. Eh, qui è difficile. Voi che cosa votereste? Non lo so. Non lo so. Eh, ok, ok. Allora, ci penso dopo, eh. Vediamo al prossimo. Chi è? Oh, no! No, ragazzi, no. Avete capito di chi si tratta? Avete capito chi è questo qui? È proprio lui! Slenderman! Slenderman, ragazzi, Slenderman fa un sacco paura. Se Slenderman, se ti trova nel bosco, sei praticamente fritto. Ok, quindi. Lo Slenderman della vita reale è super potente. Ma vediamo quello di Minecraft. Ok, è altissimo. Ehi, ma siamo vestiti uguali! Siamo vestiti uguali! Siamo fratelli! Sì, devo dire. Sembriamo fratelli, ma tu sei molto cattivo. Ok, devo dire. Su Minecraft per ora non t'ho mai incontrato, ma fino ad oggi, eh. E tu, non lo so, mi sembri un bravo ragazzo, però sicuramente sei molto più bravo di quello del film. Perché quello del film è cattivissimo. Mamma mia, non vorrei incontrare nessuno dei due, eh. Mi dispiace, ma questa volta Slenderman della vita reale mi sa che ha proprio vinto. No, volevo dire tu sei il più bello. Tu sei il più bello. Tranquillo. Ok, vediamo un po' il prossimo che abbiamo già visto. È it! Ragazzi! Mio Dio! È it! Con i palloncini! Mamma mia, che paura! Ok, it nella vita reale, ragazzi. È super cattivo. Penso che sia l'essere più cattivo del mondo. Guardate che denti storti. Ma ci vai mai? Ci vai mai dal dentista, stupidone? Ok, devo dire. Quello di Minecraft è super inquietante. Guardate come mi guarda. E poi, sentite? Ci sono anche i palloncini di it! Te li ho scoppiati adesso, stupido clown. Oh mamma, le fogne di it! Ok, devo dire, it su Minecraft fa troppa paura col suo palloncino. Te lo scoppia anche quello, eh? Mamma mia. Ma vi immaginate camminando incontriamo it? E chi ha la fobia dei pagliacci? Io non ce l'ho questa fobia. Cioè, ovviamente, se vedessi it, sì che ce l'avrei la fobia. Oh mamma mia. Mi sta fissando. C'è un hit dietro di me che mi sta fissando. Farò finta di niente. Ok, proseguiamo. Chi è? Oh! Oh! Oh mio Dio! È Momo! È Momo! È Momo! È Momo! È orribile! È che brutta! Non riesco a guardarla! Penso che sia l'essere che mi fa più paura in vita mia. E quindi, se io adesso sto guardando questo Momo nella vita reale, dietro di me c'è un Momo di Minecraft! Oh mamma! Che brutta! Che brutta, Momo! Ma ragazzi, sapete perché Momo è così cattiva? È cattivissima! Io ancora non l'ho mai incontrata su Minecraft. Beh, ovviamente, fino adesso. Solo adesso ho incontrato Momo. Ok, devo dire. Su Minecraft non mi sembri molto cattiva e spaventosa. Ma nella vita reale fa veramente paura! Oh cavolazzo, non riesco a guardarla in faccia. Mi fa troppa paura. Me la sogno stanotte. Mamma mamma mamma, mi fa troppa paura. Altro che hit, altro che Slenderman. Questa sì che è inquietante! No, non riesco più a guardarla. Non riesco più a guardarla. Però devo dire una cosa. Sei molto alla moda perché hai un guardaroba niente male, Momo, eh. Hai un guardaroba proprio... No, mi guardare con quegli occhi. Ok, andiamo avanti! Oh mio Dio! Blady! Ragazzi, Blady! Non vorrei mai avere Blady come prof di matematica. Cioè, vi immaginate avere Blady come professore a scuola? Eh? No, 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 no. Ok, Blady è veramente cattivo perché se sbagli qualcosa si arrabbia tantissimo. E quindi... Oh mio Dio! Salve! Quanto va? 2 più 2 uguale pesce? No, 2 più 2 uguale 2. Non mi picchiare. Eh, non lo so. Qui si è scritto pesce, però non lo so. Non vorrei sbagliare. Ok, devo dire. Blady su Minecraft è inquietante. Guardate. È altissimo! È molto più alto di me. Guardate che roba! Ok, allora. Scegliete voi, ragazzi. Blady di Minecraft o Blady della vita reale? Non lo so, non lo so. Eh, vediamo. Scelgo quello di Minecraft. Mi piace di più. Sì, vedi? Ti ho votato. Non mi guardare così, sei inquietante, mamma mia. Andiamo avanti, va. Allora, abbiamo... Oh! Oh, mio Dio! Ragazzi! È Samara! È Samara, ragazzi! No, 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 no. Paura! Ma perché devo... Ma perché devo fare questi video? Perché devo fare questi video che dopo muoio di paura? Mamma mia! Samara! È la bambina del pozzo! È la bambina del pozzo che è molto cattiva! Oh, è troppo brutta. Non riesco a guardarla. Quindi vediamo Samara di Minecraft! Oh! Oh, mio Dio, c'è la TV! È uscita dalla televisione! Oh, mio Dio, mio Dio! Guardate! Ciao, Samara, sei bellissima, sì. Hai un po' di capelli, hai un po' di capelli davanti. Mi vedi? Come fai a vedersi? Samara? 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 Vabbè, comunque... Samara? Ok, ragazzi. Samara esce dalla televisione e dice che avrai otto... No, quanti erano? Sette giorni? Sette giorni! E poi morirai proprio così. È troppo cattiva! Ok, ok. Però guardate che è bello. Se vi immaginate, mentre guardiamo la televisione che esce sto coso... Sì, devo dire, magari senza capelli davanti. Però, ok. Mi fa troppa paura, Samara, nella vita reale. Mi sa che hai perso questa volta, eh. Ok, andiamo avanti, va! Oh mamma, è Freddy di FNAF, ragazzi! È proprio lui! All'aria di un orsetto! All'aria di un orsetto pacifico! Ma in verità lui è il più cattivo! È l'orso più cattivo del West! È proprio lui! È Freddy! Ok, ragazzi. Io non l'ho mai incontrato, per fortuna. Non ci ho mai giocato. Però dicono tutti che sia estremamente cattivo. E quindi come sarà su Minecraft? Oh! Ahahah! Ma sei un orsetto! Sei inquietante, sì. Sei molto inquietante. E poi è gigante! Ma è possibile che sono tutti... Oh! Sono tutti così grandi? Sei proprio bello, eh. Ok, quindi. Non so chi votare. Se tu oppure Freddy della vita reale. Sai che è una bella sfida? Lasciamo scegliere i fan. Scegliete voi, ragazzi. Andiamo avanti, va! Venom! Venom, ragazzi! Venom! Il super cattivo... Con la lingua! Guardate che mostro! Allora, Venom nella vita reale fa paurissima. Se vi immaginate trovare un coso con dei denti così, con una lingua... Qua, che lecca un chupa-chupa. Ed è super potente! Se guardate che muscoli, che vene! È troppo forte! È il cattivo di Spider-Man! Vediamolo su Minecraft! Ahahah! Hai mangiato un po' troppe pizze, Venom! Venom, hai mangiato troppe pizze! Ragazzi, ma è bellissimo! Guardate che roba! Ma è troppo bello! Questa skin è fantastica! Chi sei, Venom? Si può sapere chi sei? Ok, devo dire. Devo dire. Qui una bella sfida, eh. Eh, io non lo so. Non lo so chi sceglierei. Forse tu. Sì. Perché mi fai troppo ridere. Andiamo avanti, va! Abbiamo il Joker! Abbiamo Joker di Batman! Ok, ok. Il Joker è pazzo, ragazzi. Perché dovete sapere che il Joker è pazzo! È fuori di testa! Lui è pazzo da legare! Forse è il più pazzo, il più pazzerello di tutti! E vediamolo! Oh! Joker! Joker hai perso un pochettino di carte qua e là, eh. Ok, sta evadendo di prigione. Ha tutte le sue carte sparpagliate. Ha una carta anche in mano. Ed ecco a voi il Joker, ragazzi. È proprio lui il Joker. Quindi Joker della vita reale. O Joker di Minecraft. Oggi non mi so decidere. Sai cosa? Joker nella vita reale, Boto. Sì, perché è proprio fuori di testa, eh. Vediamo l'ultimo, ragazzi. Abbiamo... L'impostore di Among Us! Chi sarà l'impostore? Beh, ovviamente è rosso, si vede. Vediamolo! Oh mio Dio! Oh, inquietante con quel coltello, eh. Ok. C'è del sangue. Tu hai il coltello in mano. Dov'è il pulsante? Dov'è il pulsante? Ti aiuto! Ok, quindi votiamo. Impostore della vita reale di Among Us. Impostore di Minecraft. Devo dire, quello di Minecraft è troppo cucciolino, ragazzi. Sei troppo piccolino! Quindi mi sa che oggi, mi sa che oggi veramente ha vinto più la vita reale che Minecraft, eh. Però, no, senza offesa, non puntarmi quel coltello addosso, eh. Ok, ragazzi, abbiamo finito! Sì! E vai! Io spero che il video vi sia piaciuto. Allora, mi raccomando, scrivete quale di questi vi è piaciuto più di tutti. Allora, voglio la classifica. Voglio qua sotto, sotto i commentini, qua sotto, sotto, sotto i commentini, che mi scriviate la classifica del primo, del secondo e del terzo. Mamma mia, troppa paura, Momo. Quindi scrivete il vostro primo, quello che vi fa più paura, il secondo che vi fa più paura, e il terzo che vi fa più paura. E magari scrivete anche il quarto, che è quello che vi fa ridere. Non lo so, fra questi non so chi fa più ridere, eh. Ragazzi, da me è tutto e ci vediamo in un prossimo fantastico video di Minecraft. Ciao! Ciao